Io sono la professoressa Monica De Silvestro del liceo Norberto Rosa di Bussoleno, insegno disegno e storia dell'arte e in questa veste sono stata coinvolta dal sindaco di Bussoleno in questo progetto che in realtà ci ha visto coinvolti in una fase molto ristretta, soprattutto perché le tempissiche non vanno tanto d'accordo con l'anno scolastico dei miei studenti e quindi noi abbiamo avuto occasione quest'anno di occuparci un pochino della piazza del mercato di Bussoleno che è una grande piazza che non ha una vera e propria identità ma ha moltissime funzioni e è molto importante per il nostro paesino. Nell'ambito dell'introduzione dell'educazione civica a scuola come materia curricolare nelle classi terze io mi sono occupata di indagare sul ruolo sociale dello spazio pubblico, della piazza e quindi abbiamo ripercorso un po' nella storia attraverso i vari episodi della storia dell'arte che avevamo visto insieme quale poteva essere il ruolo della piazza nell'identità civica proprio quindi la piazza come luogo di ritrovo, la piazza come manifestazione dell'opinione pubblica la piazza come luogo in cui scambiare delle opinioni e incontrarsi. Fatta questa introduzione diciamo più storica e disciplinare io ho provato a sfidare i miei studenti e quindi metterli proprio in gioco con un po' di progettazione partecipata io sono architetto come formazione quindi ho fatto parecchia progettazione partecipata proprio nell'ambito di Torino e quindi ho provato a sperimentarla con loro e devo dire che si vede che sono riuscita a stimolarli correttamente ho avuto una risposta veramente positiva. I ragazzi hanno preparato a gruppi dei progetti nei quali hanno illustrato le funzioni da conservare nella nostra piazza e le funzioni che invece avrebbero potuto essere integrate quindi per esempio luoghi di accoglienza per l'adolescenza, luoghi di accoglienza per gli anziani e i bambini soprattutto una rivisitazione della viabilità che in questo momento assolutamente non dà sicurezza non permette agli studenti che attendono tra l'altro in quella piazza l'apertura del liceo alla mattina presto e anche i pullman per rientrare a casa alla fine dell'orario scolastico. Quindi devo dire ho lavorato su un luogo che li coinvolgeva in prima persona perché loro trascorrono lì anche non volendo parecchio tempo ogni giorno e non sono però protagonisti nel vivere questo spazio quindi proprio per questo ho provato a cercare di capire che cosa ne pensavano e quale poteva essere il loro apporto nel ripensare la piazza.